3.677 euro netti in busta paga al mese, 5.638 euro lordi. Il primo cittadino Paolo Dosi ha accettato di mostrare pubblicamente il suo compenso, così come qualche giorno fa aveva fatto il parlamentare della Partito Democratico Marco Bergonzi dopo le polemiche scatenate dalle dichiarazioni del giornalista Aldo Cazzullo, secondo cui i nostri parlamentari guadagnano quattro volte tanto un chirurgo. Dosi, eletto alla carica nel 2012, percepisce l'indenità prevista per i sindaci delle città che superano i 100.000 abitanti. Come giudica il suo compenso? No, è senz'altro un compenso importante, evidentemente deve essere parametrato intorno a quello che è l'impegno. Per un sindaco diciamo che non esistono orari, non esistono giorni della settimana, non dico che non esistono feri, però senz'altro anche l'impegno a livello fisico, a livello mentale, e soprattutto è orientato a una serie di problemi che coinvolgono tutti i giorni la comunità di appartenenza. Da questo punto di vista, senz'altro l'importo, l'indenità è importante, però deve essere importante anche l'impegno che si profonde nell'attività che viene svolta. Quindi il suo successore è avvertito, insomma? Sì, ma penso che il successore abbia perfettamente conoscenza delle difficoltà che incontrerà. Questa è un'indenità che va a parziale del riconoscimento delle difficoltà, che inevitabilmente saranno tante, ma che comunque devono essere anche riconosciute nella fatica che comporta. Grazie. 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 Grazie.